Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna, forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri. Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui. Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato, prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci i castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.